Ciao, sono Beatrice, ho 19 anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Faccio una scuola di estetica tutte le mattine, quindi sono impegnata lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi raccomando, veniteci a tifare al palazzetto più numerosi possibili. Vi aspettiamo. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.